ben ritrovati gentili telespettatori in 724 europa vedete già la nostra ospite che elena pasquali di icosteer che parla da bolzano no lei si trova a bolzano in questo momento esatto esatto grazie mille grazie mille senta quando noi abbiamo scelto questo argomento che di cui parleremo che un po la protezione dei dati la condivisione dei dati vari servizi il futuro il block chain gdpr cosa che evidentemente alla nostra platea non sono così come dire linguaggio comune e perché ci sono vari motivi e allora vorrei chiedere a lei innanzitutto perché mi pare capire che trassuda di entusiasmo una persona che come dire sull'entusiasmo ci gioca molto due perché come dire è una reduce dal brexit nel senso che era andata in inghilterra poi è tornata e adesso è a bolzano e tre perché parla di cose molto interessanti da dove vuole partire o santo cielo mi mi dica lei c'è talmente tanto di cui parlare vorrei dire guardi facciamo una cosa come dire fatta bene nel senso ricordare qual è il regolamento dei dati personali ricordando fra l'altro anzi lo ricorderemo fra un pochino grazie a tutti allora elena questo un po riassunto di quello che il gdpr il papà del gdpr è un illustre italiano che purtroppo non c'è più giovanni buttarelli abbiamo avuto l'onore ho avuto l'onore personalmente di fare la presentazione due anni prima dell'entrata in vigore il 25 di maggio del 2018 a lucca durante il forum europeo digitale proprio con giovanni della presentazione di questa cosa che cosa è oggi il gdpr quanti importanti sono i dati elena pasquali dei cittadini europei i dati hanno assunto un'importanza fondamentale ed è accaduto senza quasi che ce ne rendessimo conto una nuova economia è sui dati se ci pensiamo le aziende che oggi hanno la più grande capitalizzazione al mondo sono aziende che monetizzano i dati e ahimè quello che è successo è che questa grande concentrazione di potere e di capitale si è fermata nelle mani di pochissime aziende e tutte quante in negli stati uniti e in cina quindi siamo in un'economia dei dati ma in un'economia dei dati che è fortemente monopolistica e centralizzata senta elena lei è molto competente molto preparata per questo ci rivolgiamo a lei e per questo facciamo come dire quello che si chiama alfabetizzazione digitale in questo caso legato ai dati ma secondo lei siamo in un punto di non ritorno oppure possiamo ancora mantenere il controllo dei nostri dati premesso che i nostri dati non sono solamente nome cognome indirizzo e tutto quello che conosciamo ma è anche ad esempio un'email ad esempio la posizione in cui ci troviamo sono molti dati che come dire generiamo lei che ne pensa ma guardi a lei ha proprio toccato il punto in realtà la general data protection regulation nasce in un'epoca pre internet quindi nasce in un momento in cui quando si parlava di dati personali si parlava appunto dei dati di cui sta parlando lei quindi dati statici tipicamente dati statici che cambiano poche volte nel corso di una vita e che sono all'interno di certi involucri con l'avvento della tecnologia e soprattutto dell'internet delle cose tutto questo è cambiato in maniera radicale i dati sono diventati de facto qualche cosa che fornisce indicazione su ogni nostro comportamento e sono dati che provengono da dispositivi connessi dispositivi connessi come il nostro telefono ma anche altri dispositivi ai quali magari non sempre pensiamo la scatola nera delle nostre automobili i contatori energetici delle contatori di energia delle nostre case i Fitbit che utilizziamo per misurare e misurare la nostra attività fisica i biglietti dei treni i biglietti degli aerei insomma siamo tracciabili ovunque esattamente allora lei ci ha fornito fra l'altro una presentazione che meriterebbe più spazio sicuramente però già dalle cinque slide che faremo vedere è interessante lei si chiede in questa presentazione se le smart city se l'essere intelligente se l'avere come dire tutti questi strumenti che abbiamo intorno e che sono improvvisamente diventati intelligenti e la privacy è una contraddizione di termine qual è la risposta? ma allora facciamo un passo indietro perché c'è questa contraddizione? beh è qualche cosa che in realtà abbiamo scoperto anche durante la pandemia improvvisamente ci siamo resi conto di quanto potessero essere utili i nostri dati e di quanto potesse essere utile condividerli dati come per esempio dove ci troviamo dove ci troviamo dove siamo stati in un certo momento e quindi in effetti se ci pensiamo ci siamo divisi in due campi da un lato gli integralisti ah io i miei dati non li condividerò mai a nessuno dall'altro i rassegnati quelli che vabbè già condivido i miei dati con chissà chi per idiossie tanto vale farlo per una buona causa ecco io credo che la partecipazione digitale sia essenziale per i cittadini del futuro ma che debbano esistere degli strumenti per promuovere questa partecipazione e per premiarla per premiare i comportamenti virtuosi della maggioranza dei cittadini che appunto persone virtuose sono quindi io penso che sia importante condividere i propri dati ma poterlo fare applicando i fondamenti della normativa sulla privacy quindi della GDPR e istituendo meccanismi di motivazione di incentivazione a questa condivisione certo fu un atto di coraggio il GDPR Giovanni Buttarelli ricordava che si possono fare altre cose ma lo si devono fare nel pieno delle regole in quello che si chiama il level playing field cioè regole uguali per tutti senza un dominio senza qualcuno che sovrasta qualcuno e giustamente come diceva Elena Pasquali poi ci dimentichiamo che lasciamo come pollicino le palline di pane ovunque non ci rendiamo conto che qualcuno sta per arrivare allora qual è il benefit della decentralizzazione ed entriamo subito come dire a gamba tesa sul tema della blockchain perché dobbiamo spiegare ovviamente io dico sempre alla casalinga di Matera che se non capisce ci tira le pietre i sassi di Matera dobbiamo spiegare di fronte a che sfida stiamo avvenendo perché il blockchain è una disintermediazione completa che consente ma ora ce lo dirà meglio Elena Pasquali perché altrimenti non avrebbe senso questa intervista e l'avrebbe fatto il giornalista evidentemente ci sono dei certificati e dei patent che consentono appunto la chiusura del processo in maniera tale che non ci sia qualcuno come dire che si metta di mezzo praticamente ho detto qualcosa che non è nella realtà Elena Pasquali lei che ne sa bene di queste cose può spiegarci che cosa che cosa aiuta il blockchain? certo allora mi faccio fare un passo indietro io amo fare un passo indietro mi sembra di aver reso piano mi misco a lei parliamo di che cosa vuol dire centralizzazione nell'ambito della condivisione dei dati centralizzazione significa che quando noi condividiamo i nostri dati con una qualsiasi delle piattaforme con cui interagiamo quotidianamente e diciamo sì al mio consenso a condividerli con terzi ne perdiamo il controllo quindi questo il controllo dell'accesso ai nostri dati è centralizzato è nelle mani di quella piattaforma che sarà l'unica a sapere chi sono esattamente queste parti e sarà quella che deciderà chi di queste parti ha effettivamente accesso ai miei dati decentralizzare tutto questo significa fare sì che la piattaforma sia disintermediata da questa capacità decisionale quindi la piattaforma continuerà a funzionare come strumento di distribuzione fisica dei dati ma il potere decisionale sarà decentralizzato quindi sarà nelle mie mani sarà di me che condivido i dati con la piattaforma ma che in ultima analisi sarò l'unica persona l'unico individuo in grado di decidere quale terze parti potrà effettivamente avere accesso ai miei dati senta Elena provo a fare il coraggioso mettiamo come dire una pratica di pensione come sappiamo adesso lo dobbiamo rimettere rimettere scusate all'Inps che deve vedere dei fogli incartamenti deve rispondere dare il pin insomma un processo abbastanza diciamo laborioso piuttosto lo chiamiamo così invece che in un altro nome invece con il blockchain c'è immediatamente il trasferimento delle informazioni che vengono certificate e quindi il processo aumenta di efficienza e ovviamente di risposta anche perché evidentemente vengono creati processi molto più importanti riprendiamo il racconto delle sue slide ma ricordiamo che in principio in qualche modo il blockchain è stato abbinato ai bitcoin adesso siamo usciti finalmente da questo monopolio e ci racconta fra l'altro una delle rapporteure del Parlamento Europeo Eva Caili quali sono le applicazioni lo abbiamo già detto un attimo fa ad esempio nel settore automotive Transactions che sono più transparente decentralizzate faster e cheaper questi sono i benefici di blockchain technology a new digital storage system che potrebbe cambiare le nostre lives Blockchain technology è metta con molto grande interesse come vedo in questo workshop organizzato dal Parlamento per assessare scientific e tecnologiche che potrebbe cambiare le nostre lives è una vita dove transazioni o contratti possono succedere senza intermediari io credo che questo potrebbe essere una rivoluzione perché crea una nuova forma di pensare di credere beh, io credo se i cittadini se si chiedono se si chiedono se si chiedono se chiedono se chiedono se chiedono se chiedono se chiedono non credo non credo avere molti risultati MEPs che è ancora acerbo e deve rincorre perché la tecnologia corre velocissima e il legislatore lo si vede con la lingua di fuori che non riesce mai a prendere come dire il dorso della tecnologia ma allora io devo dire che nelle mie interazioni con i legislatori ho trovato tantissima apertura diciamo che si fatica ancora un po' a uscire dai paradigmi tradizionali quindi dallo status quo dato da come venivano trattate le transazioni in passato poi il mio campo appunto le transazioni relativa ai dati e come venivano trattate e come vengono trattate oggi diciamo che nella blockchain io vedo così come diceva la parlamentare che avete intervistato la grande opportunità effettivamente è quella degli smart contract perché lo smart contract davvero consente di stabilire relazioni dirette fra il possessore di un bene e il suo usufruttuario senza necessità di dover riporre fiducia in un ente centralizzato quindi ritorniamo al discorso della decentralizzazione del controllo all'accesso ai dati che facevamo prima va bene allora riprendiamo il nostro controllo perché appunto fra le slide più interessanti che abbiamo visto è un po' questa la frequenza dal fatto che fra l'altro si usano parole molto interessanti come privacy cioè rispetto della privacy e una parola che è enorme in inglese che è trust cioè la fiducia cioè la fiducia è una cosa seria anche qui ricordiamo un vecchio claim di una vecchia pubblicità no Elena che cosa che cosa spiega appunto questo in particolare appunto i dati che vengono appunto granted or not granted cioè definiti in maniera positiva e ufficializzati e quelli che invece non possono essere certificati allora qui anzitutto devo dire il disclaimer qua stiamo parlando di una tecnologia che noi abbiamo abbiamo brevettato quindi una tecnologia proprietaria della mia start up che è stata brevettata negli Stati Uniti tra l'altro in soli due mesi dalla data del deposito per cui veramente in tempi record e che come dicevo costituisce aggiunge uno strato di decentralizzazione sulle piattaforme di distribuzione dei dati quindi aggiunge interiore sicurezza come dire aggiunge controllo diciamo che aggiunge il controllo decentralizza il controllo all'accesso ai dati mentre normalmente i dati della mia macchina per esempio sarebbero sotto il controllo di quel quadratino azzurro che vedete che potrebbe decidere chi sulla destra potrebbe vederli io aggiungo uno strato per cui sono io cioè la mia piattaforma la nostra piattaforma aggiunge uno strato di controllo che consente al guidatore di decidere chi avrà accesso a questi dati e di creare una relazione diretta con questo ente utilizzando proprio gli smart contract e qui c'è una cosa interessante di cui noi andiamo pazzi e che è stato oggetto fra l'altro anche di un importante bando Horizon 2020 che è 5G siti con i verticals cioè i verticals del 5G e l'applicazione ovviamente dei flussi blockchain perché c'è il ruolo delle città il ruolo delle città che diventa molto importante Elena perché diventa così importante anche sulla valorizzazione dei dati dei cittadini allora ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio tanto per tornare indietro noi parliamo delle nuove tecnologie di quello che le nuove tecnologie consentono le nuove tecnologie consentono di trasformare le nostre città e tutti gli oggetti fisici delle nostre città e di cittadini insorgenti di flussi di dati in quello che noi chiamiamo i gemelli digitali e come dicevamo all'inizio avere a disposizione questi dati effettivamente consente di poter affrontare tantissimi problemi a oggi risolti la pandemia ne abbiamo già parlato ma problemi relativi all'inquinamento problemi relativi al traffico problemi alla gestione delle risorse idriche delle risorse energetiche però quando questi dati sono effettivamente generati da noi stessi o da degli oggetti che ci appartengono dobbiamo poter controllarne l'accesso e dobbiamo anche essere incentivati a farlo una domanda secca Elena che è molto difficile diventeranno più ricche le città o più ricchi i cittadini? diventeremo più ricchi tutti la so che diventeremo più ricchi tutti diventeremo più ricchi tutti perché le città avranno a disposizione gli strumenti che servono per gestire la città e quindi la vita dei cittadini in modo migliore e di cittadini sì prego vediamo in questa presentazione invece da un'automobile e da un guidatore attraverso immagino le varie soluzioni non soltanto la vostra ma quelle che ci sono in generale sul mercato sul blockchain quante cose si possono fare perché come vedete c'è la guida autonoma il caricamento dell'auto elettrica la possibilità di gestire la flotta le riparazioni il traffico le assicurazioni gli aspetti come dire gli impatti sono enormi esatto esatto e c'è una cosa che oggi forse fino ad oggi non sapevamo ma che i nostri dati hanno un valore monetario e per le automobili questo valore si colloca fra i 100 e dipende a seconda di chi lo calcola ma tra un minimo di 100 e un massimo di 300 euro per utilizzatore quindi ognuna uno degli enti sulla destra in realtà sarebbe felice di pagarmi 100 euro per poter ricevere i dati della mia macchina in tempo reale magari appunto per poter gestire la mia guida autonoma Elena Pasquali le do una bella notizia sono 20 minuti sono passati come se fosse un minuto questo merito suo evidentemente e di questa interessante discussione abbiamo fatto tante citazioni l'ultima è ma lei chi gliel'ha fatto fare? lo spirito guerriere che entro mi rugge? non lo so lei che deve rispondere a questa cosa vede vede che c'è un filo rosso torniamo indietro alla prima che abbiamo fatto all'inizio cioè lei è rita di entusiasmo cioè si vede che una persona che ogni volta che parla di questi temi lo fa perché ha una passione dentro che vuol dire è un fuoco importante ma è solo questo solo questo e la domanda più seria è questa oppure veramente siamo di fronte a una rivoluzione importante per le nostre società io credo che l'Europa proprio grazie ai suoi principi fondanti e grazie alla sua normativa che tante aziende fino ad ora hanno interpretato esclusivamente come un ostacolo burocratico possa diventare il leader di una nuova economia dei dati un'economia dei dati finalmente etica condivisa partecipata distribuita ed è centralizzata e come sappiamo l'economia dei dati è il futuro dell'umanità quindi io nel mio minuscolissimo campo voglio contribuire a creare una vita migliore per tutti no e complimenti Elena perché non abbiamo sbagliato il tiro dopo aver studiato evidentemente perché gli ospiti che vengono a 724 Europa arrivano perché c'è uno studio di preparazione molto importante siccome il tema è molto affascinante soprattutto per far capire appunto per cominciare a trasmettere è il caso di dirlo visto che siamo in televisione ai telespettatori le nozioni importanti da questo punto di vista perché poi da blockchain si vale DLT ma se cominciassi a parlare di DLT e Zero Touch Automation diventa una giungla su cui praticamente ricevo giustamente delle minacce quasi a smettere di fare questo mestiere allora Elena grazie di cuore per questa bellissima trasmissione per averci parlato per averci aperto la porta al futuro adesso noi chiudiamo con un filmato dedicato proprio al Parlamento Europeo perché pensate proprio in considerazione delle relazioni fra cittadini e istituzioni il blockchain potrebbe avere sicuramente un ruolo molto importante Elena grazie di cuore per essere stata con noi buona fortuna evidentemente per il suo lavoro e a presto rivederla magari spiegandoci altri momenti importanti dell'impatto della blockchain e dell'Internet of Things ai nostri telespettatori grazie mille arrivederci a presto a presto a presto a presto Grazie per la visione!